Tra liti e veleni inizia l'era 5 stelle ad Avellino, ieri in occasione del primo consiglio comunale si è manifestato evidente un'asse festa cipriano per l'elezione del presidente, l'urologo dell'ospedale Moscati Ugo Maggio, che annuncia sarò garante di tutti i consiglieri. La mia funzione quindi in quanto garante mi gratifica notevolmente perché io avrò in carico tutti i consiglieri che vorranno lavorare adeguatamente per la città di Avellino indipendentemente dalla logica politica di appartenenza. Ecco perché se veniamo avvicinati al buon cipriano non può che gratificarci la cosa in quanto parliamo di un gruppo che ha recepito un 14% di consensi in città e quindi un gruppo sicuramente notevolmente ben voluto, ma così come tutti gli altri. Intanto il sindaco Ciampi apre al dialogo, non ci saranno chiusure né compromessi, sono disposto a collaborare con tutti nell'interesse dei cittadini senza pregiudiziali di carattere politico. Ma Dino Preziosi replica, indichi 10 punti per il bene della città. Sarebbe preferibile che portassi in consiglio una serie di punti importanti per la città rispetto ai quali trovare una convergenza e portarli avanti. Se non va così, siccome anche ieri sera si è notato subito la difficoltà gestionale dell'ente, la città si blocca, si paralizza, per cui la mia era stata un'apertura per aiutare la città. E sulle polemiche per il suo stipendio Ciampi chiarisce. L'impegno che ho preso in campagna elettorale sarà ovviamente rispettato. Mi ridurrò lo stipendio che percepirò da sindaco fino ad adeguarlo a quello di funzionario dell'Agenzia delle Entrate. La somma sarà poi utilizzata di volta in volta in progetti utili per la città, la cultura, le scuole e i bambini. Grazie a tutti.